Falsità ideologica in atto pubblico e rivelazione di segreto d'ufficio a mezzo stampa e tv. Queste le accuse con le quali ieri è stata rinviata a giudizio la preside del liceo artistico Policarpo Petrocchi di Pistoia, rinviata a giudizio per i reati di falso in atto pubblico anche un insegnante, nella sua veste all'epoca dei fatti, di segretario dell'organo di garanzia della scuola. Il rinvio a giudizio è relativo ai fatti che avvennero in conseguenza di un episodio di bullismo ai danni di una studentessa quindicenne a margine di un'assemblea di istituto che si svolse la mattina del 28 marzo 2019 al centro espositivo La Cattedrale, nell'area ex Breda di Pistoia. Per quei fatti la scuola sospese due studenti che non sarebbero intervenuti per fermare i bulli, le famiglie dei due studenti assistite dall'avvocato Fabio Maria Galiani del Foro di Roma sporsero denuncia contro la scuola. Ieri il giudice per le indagini preliminari ha rinviato a giudizio la dirigente scolastica Elisabetta Pastacaldi e l'insegnante Angela Borselli, difese rispettivamente dagli avvocati Massimo Tahiti e Niccolò Grossi.